È incredibile, i comuni, quelli virtuosi che magari hanno i soldi bloccati per costruire scuole, asili nido per i propri cittadini, vengono lasciati alla deriva e vengono fatti strozzare dal patto di stabilità. Mentre per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, Renzi decide e dichiara che bisogna allentare il patto di stabilità, aiutarli. È un'ingiustizia palese, l'ennesima ingiustizia che sta portando avanti il governo per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. Evidentemente, come stiamo vedendo anche dai fatti di mafia capitale, del cara di Mineo, a qualcuno questo buonismo serve a mascherare un interesse di portafogli pieni di euro, stessi euro che magari poi escono a finanziare la campagna elettorale di qualche candidato.